Il personaggio senese di oggi a Siena non c'è proprio nato, era nato a Pomarance, ma non era nemmeno pomarancino perché in realtà la sua famiglia era di Chiusdino. Eppure è difficile non considerare senese il grande Paolo Mascagni, nato nel 1755, forse il 25 gennaio, forse il 5 di febbraio più o meno in questi giorni. Paolo Mascagni studia a Siena, si prepara a Siena e studia e si laurea in filosofia e medicina, non faccia ridere. All'epoca i medici dovevano conoscere la filosofia perché per curare bisognava riuscire a capire anche come curare oltre al corpo la mente. Nel 1778 è allievo di Pietro Tabarrani. Pietro Tabarrani, per chi non lo sapesse, andate a guardare l'Enciclopedia Treccani, ci trovate una voce alta così, perché questi grandi personaggi, questi grandi campioni, non sono nati dal nulla. Hanno avuto, in realtà, dei grandi allenatori e Pietro Tabarrani era un grandissimo allenatore. Quando il suo maestro incomincia a essere colpito da cecità, il Mascagni gli subentra. Nel 1778 è il suo aiuto, poi è il supplente. A 25 anni è titolare della cattedra di anatomia e studia il sistema linfatico. È il primo a rendere visibile l'intero sistema. Gli studi che lo porteranno a compilare un capolavoro, ancora oggi è considerato veramente tale. Quell'Atlante anatomico, realizzato studiando i cadaveri dei condannati a morte, i cadaveri dei mendicanti, i cadaveri abbandonati, scrive quel lavoro di anatomia che verrà poi pubblicato, postumo, fra il 1823 e il 1831, a rapporti a Firenze con Felice Fontana. Chi è Felice Fontana? Felice Fontana è un grande ceroplasta, uno di quelli che costruisce i modelli anatomici e con lui il Mascagni avrà una collaborazione intensa. È un personaggio che comunque sia studia le miniere, quelle di Massager, Falco, Montieri, che introduce per primo tutta una serie di piante azotanti in agricoltura. Il Lupinello, l'Erba Medica, il Trifoglio d'Olanda, il Meliloto di Siberia, un nome quasi impronunciabile. È il primo a introdurre in Toscana l'uso alimentare della patata, il primo a introdurre la patata. Accademico, fisiocritico, socio, segretario, poi presidente a vita dal 1798. Nel 1799 viene coinvolto nel moto del Viva Maria, è un giacobino e questo gli costerà poi anche diversi mesi di carcere. Abbandonerà poi Siena, lascerà Siena, andrà a Pisa, andrà a Firenze. Muore a Chiusdino nel 1815. Il Pietro Mascagni è stato un... Paolo Mascagni, ovviamente non Pietro, scusatemi, ho sbagliato l'apostolo di riferimento. Paolo Mascagni è un grande senese. Non possiamo dimenticarcene e la traccia di questo grande senese è a Siena dove? Ve lo racconterà domani mattina Maura Martellucci. Buona giornata a tutti.